Buongiorno e benvenuti nella pagina di Bellessere Unixpense, la bellezza a domicilio. Nell'appuntamento precedente abbiamo parlato dell'utilizzo del latte detergente, del tonico e perché utilizzarli. Oggi affronteremo quello che è il discorso dei prodotti, delle metodiche di esfoliazione della pelle. Perché utilizzarli, lo scrub, il peeling, il gommaggio, ma sono la stessa cosa o qualcosa di diverso? Unixpense, bellessere, è un'azienda che è italiana, sul mercato da circa 10 anni, da oltre 10 anni e si occupa di alta cosmesi. Io sono la consulente qui in Sicilia, quindi per qualsiasi consiglio e consulenza di bellessere, quindi di bellezza e benessere a domicilio, potete chiedermi e contattarmi in privato. Iniziamo subito con l'argomento di oggi, che è appunto lo scrub. Aspettate un attimo che mi connetto. Ecco allora, lo scrub, cos'è lo scrub? Cos'è un peeling e cos'è il gommaggio? Prima di ogni cosa, sono tutte tecniche, metodiche di esfoliazione della pelle, del viso e del corpo. Dovete sapere che, ma sicuramente lo saprete, che la pelle è l'organo più vasto del nostro corpo. Quindi ricopre proprio tutto il nostro corpo ed è fatto di cellule. Le cellule hanno un ciclo vitale di circa 21-28 giorni e dopodiché muoiono, finito il loro ciclo vitale. E cadono. Ad occhio nudo non lo vediamo, però immaginate la pelle quando d'estate. Abbiamo la pelle abbronzata e inizia a squamarsi. Ecco, quella pelle che cade sono cellule morte. Anche nel periodo invernale, anche se non lo vediamo ad occhio nudo, comunque le cellule cadono. E muoiono e cadono, quindi. E quando non cadono, rimangono attaccate. E quindi creando a volte degli spessimenti. Perché fare un'esfoliazione alla pelle del viso e del corpo? Sicuramente in preparazione dell'estate, per avere una abbronzatura più uniforme, più duratura, più dorata. Per l'uomo, perché fare un'esfoliazione al viso? Perché rende la pelle più morbida, più compatta e quindi aiuta anche l'arrasatura. Prima di, buongiorno Agatha e benvenuta nella pagina di Bellessere Unixpels. Quindi dicevo, perché utilizzare una metodica di esfoliazione? Ad esempio, prima di ogni ciclo di trattamento anticellulitico, un trattamento anti-aging, è utile per preparare la pelle, proprio perché con l'esfoliazione noi andiamo a togliere quello strato corneo che se non lo facessimo è come se avessimo una patina, pensate alla pellicola da cucina, messa sul viso e quindi tutto ciò che andiamo a mettere sulla pelle, i principi attivi ne penetrano soltanto una piccolissima quantità, proprio perché non riescono ad essere filtrati. Quindi detergere bene il viso tutti i giorni, ma soprattutto almeno una volta, due volte, barra due volte a settimana, andare a utilizzare un esfoliante viso o un esfoliante corpo, a secondo di ciò che dobbiamo andare a fare, è importante, quindi prepariamo la pelle a ricevere tutto ciò che mettiamo, può essere il sieno, la maschera, la crema quotidiana giorno o notte, o la crema anticellulite, la crema drenante, la crema da barba, la crema post barba o prima della barba che viene utilizzata dall'uomo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos'è uno scrub, cos'è un peeling e cos'è il gommaggio, che è una della più nuova delle metodiche di esfoliazione, ma continuano a, ma ve lo dico dopo. Allora, cos'è lo scrub? Lo scrub agisce per azione meccanica, sì, perché abbiamo esfoliazione ad azione meccanica e ad azione chimica, quindi lo scrub fa parte di quella metodica di esfoliazione ad azione meccanica, perché va a sfruttare quello che è l'ostrofinio del prodotto sulla pelle, che può essere il viso, il corpo, continuo a ripetere. Solitamente lo scrub è costituito da un'emulsione, quindi, o da una crema, più o meno compatta, dove all'interno troviamo oli essenziali, troviamo degli oli importanti, come potrebbe essere il burro di calitè, l'olio di jojoba. Insomma, sul mercato ce ne sono davvero tanti. E poi si chiama scrub proprio perché andiamo a utilizzarlo con questa azione meccanica, con questo strofinio e, scusate che io nel frattempo apro la presentazione del prodotto. Quindi, dicevo, con lo strofinio nel prodotto si attiva questa azione meccanica perché ci sono dei microgranuli, che solitamente sono noccioli di abicocca proprio resi in granuli, quindi triturati, che insieme al burro di calitè, all'olio di jojoba, aglioni essenziali, all'emulsione, rendono e facilitano proprio l'eliminazione dell'impurità. Perché utilizzare uno scrub? E chi lo può utilizzare lo scrub? Questo potrà essere utilizzato uno scrub, ad esempio, per le pelli mature, per chi ha una pelle spessita. E sicuramente l'azione meccanica non fa altro che non solo andare a staccare le cellule morte, ma va a riattivare il microcircolo, quindi a portare più sangue in superficie, a dilatare i pori, quindi a far sì che i pori vengano poi detersi con le dovute maschere, subito dopo lo scrub, e purificate. Quindi, con l'utilizzo settimanale dello scrub si ha sicuramente una pulizia più a fondo della pelle, perché andiamo ad eliminare anche quei residui di sporco, che possono essere residui, ad esempio, del make-up per la donna, e residui anche dello smog, quindi perché dovete sapere che la pelle è costantemente sotto stress, grazie o a causa degli agenti atmosferici, quindi aria, vento, sole, luce, fumo di sigarette, smog coditiano. Quindi, sia per l'uomo che per la donna, è davvero importante fare una buona detersione e l'utilizzo di un buono scrub. Ma cos'è il peeling? Ma prima di parlare del peeling, vorrei parlare dell'altro esfoliante ad azione meccanica, che è il gommage. Il gommage è anch'esso costituito da un prodotto che può essere un'emulsione più o meno plastichina, pensate, un po' più elastica come prodotto, un po' più elastico come prodotto, ma sempre contenente degli oli essenziali importanti, idratanti e nutrienti per la pelle, così come nello scrub, ma i microgranuli sono più sottili, sono proprio a volte impercettibili, e va continuamente massaggiato sul viso, perché è più indicato sul viso che per il corpo, il gommage, e soprattutto per quelle pelli sensibili, soprattutto, ad esempio, per quelle pelli sofferenti da cuperoso, oppure nei soggetti, nelle giovanissime, nei giovanissimi. Sicuramente su una pelle grassa non vado a utilizzare un gommage, ma utilizzerò un peeling. Quindi, diciamo, cos'è il peeling? Il peeling non funziona, non agisce ad azione meccanica, ma sfrutta il principio chimico. Infatti, sfrutta l'azione degli alfa e beta drossi acidi, come ad esempio uno dei peeling che mi viene in mente adesso, può essere l'acido mandenico derivante, è un acido derivante dalla mandorla. È un acido che può essere utilizzato, la parola acido può far paura, ma in realtà, quelli venduti per l'uso domiciliare, non sono così tanto aggressivi. Però, dobbiamo sempre stare attenti alla tollerabilità della pelle, alla percentuale di principio attivo contenuto nello stesso prodotto. Non hanno, dicevo, un'azione meccanica, non sfruttano un'azione meccanica, ma bisogna soltanto stenderli sulla pelle ed aspettare in tempo, metterli in posa, e aspettare che si concluda in tempo di posa. Dopodiché, basta sciacquare il viso a sfruttarlo con delle spugnette ed acqua tiepida, perché così vai a neutralizzare quello che è l'effetto proprio dell'acido, perché dovete sapere che gli alfa e beta grossi acidi si neutralizzano proprio in acqua calda. Un altro acido come peeling mi viene in mente intanto nominato acido gliconico. Acido gliconico, prodotti di acido gliconico, in commercio ce ne sono davvero, davvero tanti. Lo utilizziamo, sono importanti per, ad esempio, per chi soffre di macchie, macchie gravidiche, non quelle da vecchiaia, ecco, semiliche. Quindi lo utilizziamo per chi ha una pelle spessa, per chi ha una pelle acneica, chiaramente i trattamenti ad alta percentuale di acido gliconico vengono utilizzati dai medici estetici e dai dermatologi che possono utilizzare, le uniche figure professionali che possono utilizzare l'acido gliconico, quindi un peeling all'acido gliconico all'alta percentuale. Però ci sono quelli ad utilizzo domiciliale. Quindi, che dire, peeling, gommaggio o scrub. Anche Unix Pels ha il suo scrub. E vi faccio vedere un attimo quello che è. Ecco, Unix Pels. Questa è la linea della bava di lumaca della quale parleremo. E poi c'è anche uno, eccolo qui, un latte solare. Eccolo qui. Lo scrub viso gel granulare. Questo tipo che ha creato la Unix Pels, azienda 100% italiano, con il medico scientifico, il responsabile scientifico, il dottor Miori, che ha creato questo scrub viso utile, adatto a tutti i tipi di pelle. Quindi, care amiche, cosa dire? Come va fatto una buona detersione, una buona pulizia, una buona preparazione della pelle all'utilizzo di creme, maschere e sieri? Sicuramente andare a, quindi abbiamo detto, riepilogando, andare a utilizzare il latte e tonico per la detersione di tutti i giorni. Ma almeno una volta, due volte a settimana, andare a utilizzare uno scrub o un peeling o un gommage a secondo della tipologia di pelle che avete, sicuramente, o a secondo di qual è il vostro obiettivo per l'escoliazione della pelle, sicuramente è necessario, non importante, è importante, è necessario, perché altrimenti tutto ciò che andrete a mettere, le creme, i sieri, le maschere, i loro principi attivi, davvero penetrano in piccola quantità e sprecherete soltanto tempo e denaro. Quando fare un peeling o un gommage, quando fare, utilizzare una metodica di esfoliazione, io consiglio sempre, se lo fate in istituto, allora, qualsiasi orario va bene, l'importante è che lasciate la pelle detersa almeno per il resto della giornata, anche perché comunque non avrete bisogno di utilizzare immediatamente il make-up, perché comunque con l'esfoliazione del viso, visto che andiamo a, come dicevo prima, a riattivare il microcircolo, a ricompattare la pelle, il viso apparirà più luminoso. ecco perché uno dei tanti motivi per fare un'esfoliazione della pelle. Quindi, io, il mio consiglio per chi lo fa a casa, per chi utilizza ad esempio lo scrub di Unix Pels, adatto a tutti i tipi di pelle, può farlo, io lo consiglio di farlo la sera e quindi puoi dormirci tutta la notte con la pelle bella, pulita e detersa. Un consiglio che vi posso dare, un altro consiglio che vi posso dare sicuramente è quello di la sera di, sia per l'uomo che per la donna, quindi la sera andare a detergere la pelle e mettere una buona crema idratante o a secondo del tipo di pelle e dell'età che avete andare a utilizzare una pelle, una crema specifica. Perché la sera? perché comunque fate respirare i pori, la pelle riposa nutrita, quindi andate anche l'uomo che non usa il make up, se a fine giornata prende un batuffolo di cotone, lo mette del latte detergente, lo passa sul viso, vedrete, vedrà come il batuffolo si sporcherà, proprio perché siamo, come dicevo all'inizio di questo appuntamento, la pelle è costantemente sotto stress dagli agenti atmosferici e dallo smogo col quale conviviamo. se Agatha vuoi farmi qualche domanda, io continuo, ad esempio, Agatha è la mia manager in Utilspels per la Sicilia, quindi noi possiamo consigliarvi, le consulenze, le mie consulenze sono assolutamente gratuite, quindi per coloro che volessero avere qualche consiglio su come trattare la propria pelle e su quali prodotti utilizzare, potete assolutamente scrivermi in privato. Inoltre, chi volesse entrare a far parte del mio team lavorativo, quindi consigliando o comunque promuovendo i prodotti dell'azienda che rappresento è il benvenuto. Contattami in privato perché Unicpens non lo trovate nei negozi ma soltanto con la vendita diretta, proprio perché trattandosi di prodotti di alta cosmesi l'azienda ha deciso di non utilizzare i canali classici dei negozi e quindi andare a fare un ricarico commerciale ma con la vendita diretta pur mantenendo qualitativamente alto il contenuto del prodotto stesso. Il prossimo appuntamento ve lo do per il venerdì sempre alle ore 11 sempre sulla pagina di Bellessere Unicpens e vi presenterò la linea alla bava di Numaca. Non vi svelo niente però se volete qualche curiosità o comunque volete sbirciare sul catalogo di Unicpens io lo posterò dopo questa diretta sempre sulla pagina di Bellessere Unicpens bellezza e benessere a domicilio quindi cari amiche cari amici se volete qualche consiglio contattatemi adesso siamo già in chiusura vi ringrazio per l'attenzione e vi do vi ricordo l'appuntamento sempre per venerdì alle ore 11 su questa pagina per parlare della bava di Numaca vi presenterò dei prodotti e vi darò qualche chicca su come utilizzarli baci dal salotto di benessere Unicpens ciao